Purtroppo è successo, purtroppo è accaduto. Ce l'aspettavamo tutti, ne avevamo parlato questa mattina e ci sono le conferme. Era la cosa che mi preoccupava di più in assoluto e questa cosa è accaduta. E cioè il Manchester United ha informato la Juventus che non si va avanti. Non sono più interessati a Rabiot, andranno su altri obiettivi, cercheranno un altro giocatore da inserire nell'organico a centrocampo. Non sarà il francese, a meno che, dice Fabrizio Romano, non possa cadere qualcosa di clamoroso lato giocatore, quindi un ripensamento dell'ultimo minuto. Rabiot non giocherà nello United nella prossima stagione, non so se giocherà nella Juventus o se arriverà un'altra offerta. Io ad oggi credo che sia molto complicato immaginarsi Rabiot da qualche altra parte. era la classica occasione di mercato perfetta per la Juventus. Lato cessioni, perché la Juve ha bisogno di alleggerire la rosa, ha bisogno di cedere giocatori, ha bisogno di alleggerire il monte in gaggi, perché Rabiot era esattamente quel giocatore che guadagna tanto, è fuori dagli standard della Juventus dal Covid in poi. Infatti è stato uno degli acquisti dell'ultima campagna acquisti pre-Covid e dato che comunque c'è stata la partenza di Elite, la partenza di Ramsey, si è parlato appunto della partenza di Rabiot, iniziano ad essere tutti giocatori che sono stati acquistati per altri allenatori, non per Massimiliano Allegri, e si stava cercando di allontanarli, ma anche per dire operazioni chiuse prima del Covid, come per esempio Kuluseski, che è stato pagato 40 milioni di cash. L'anno scorso si è provato a riprendere quell'investimento. O una delle operazioni immediatamente post-Covid, che sono state fatte più che altro per cercare di mettere a posto il bilancio, generando una plusvalenza come quella di Arthur. Queste sono tutte operazioni che oggi la Juventus non andrebbe a fare sul mercato. A, perché ha imparato dai propri errori, e B, perché si sta cercando un'altra politica societaria. E quindi Rabiot ad oggi rimane alla Juventus, e ve lo dico tranquillamente, me lo immagino addirittura magari già titolare, o comunque in ballottaggio nella partita di Genova contro la Sampdoria, perché come ribadivo nel video di stamattina, se Rabiot è disponibile, ragazzi, Rabiot gioca. L'abbiamo visto anche l'anno scorso, aspettando Pogba. Sono amareggiato da questa cosa, perché ci avevo creduto, ma soprattutto perché è la seconda trattativa che sfuma, forse la terza trattativa che sfuma, che speravo di poter portare a conclusione. Mi viene in mente Rugani, cercato dal Galatasaray per decine di milioni di euro. Non convinto della Turchia, suo diritto, rimane alla Juve. Mi viene in mente Arthur, con Rino Gattuso, che in prima linea si mette lì e dice voglio un giocatore del genere, sarebbe perfetto per me. Se sono sentiti pure per telefono, la Juventus era pure disposta a darlo in prestito gratuito, ad aiutare il Valencia a pagarli in gaggio. Ma niente da fare, perché il Valencia voleva 80-20, 90-10, 70-30, si è parlato tantissimo di percentuali, in cui la Juventus doveva corrispondere troppi soldi, rispetto alla squadra che poi andava effettivamente a usufruire del calciatore. E sono tre cessioni che mi rimangono qui, mi rimangono qui perché sono tre giocatori che secondo me alla Juventus non hanno futuro, non sono all'interno del progetto. Rabiot e Arthur potevano portare, una delle due cessioni poteva portare all'arrivo di Paredes, però sapete bene che io non è che sia calcisticamente innamorato di Paredes, ne ho già parlato in un video apposito, ma soprattutto Rugani apriva la possibilità a migliorare sensibilmente un reparto difensivo composto da quattro centrali che secondo me non sono all'altezza per essere giocatori della Juventus e di una Juventus che vuole provare a vincere in Italia e a competere in Europa. Ce lo dirà il campo, ce lo dirà il tempo, però essendo il calcio mercato ancora aperto speravo in qualcosa di meglio in quella zona del campo. E invece no, Rabiot rimane, Arthur rimane, Rugani rimane, vediamo se si apriranno altre strade da qui alla fine del mercato, ma il tempo stringe, ma soprattutto le squadre magari interessate a questi calciatori possono essere sempre meno perché il conto è lo United che forse è in una situazione di disastro maggiore rispetto alla Juventus stessa negli ultimi anni a livello calcistico, di programmazione, a livello proprio di prestazioni anche in campo, che aveva necessità, loro sono ricchi, non hanno problemi di soldi, hanno un campionato che comunque tira tantissimo e potevano pensare a un Rabiot che poteva farsi ammaliare anche se vogliamo attirare dalle serie della Premier. E invece Rabiot mette davanti il denaro, mette davanti probabilmente la Champions, mette davanti probabilmente il Mondiale cercando di avere la certezza di non doversi rimettere in discussione a pochi mesi dalla spedizione e quindi dalle convocazioni, nonostante sia un giocatore comunque apprezzato dal CT Deschamps e Rabiot rifiuta lo United, rifiuta l'offerta allo United che era anche buona a livello economico perché gli garantiva comunque bene o male lo stesso stipendio che aveva la Juventus, cosa che non credo sia così scontata poi effettivamente l'anno prossimo magari da parametro zero e forse lo United di fronte a questo comportamento di Rabiot potrebbe pensarci due volte prima di tornare ad offrire magari per il calciatore ma soprattutto la Juventus si spazza proprio dalla bocca proprio con il tovagliolino i più di 15, quasi 20 milioni che lo United aveva messo sul piatto per accapararsi la bio e anche il risparmio netto del cartellino che la Juventus avrebbe evitato volentieri. Pare adesso arrivo oppure no? Ora non lo so, non ho idea ma non è nemmeno questo il problema perché io credo che in questo momento la Juventus debba cercare anche di emulare il Milan perché dico il Milan? perché se ragiono sulla Serie A il Milan mi sembra la squadra più avanti a livello di programmazione e la squadra più europea anche se vogliamo non solo per il modo di giocare a calcio il Milan ha un'intensità fa delle partite veramente in un certo livello infatti ha vinto l'ultimo scudetto infatti è ripartita fortissimo infatti per quanto mi riguarda è la candidata numero uno perché chi vince lo scudetto è comunque ha un'identità di gioco ben precisa e comunque non va a fare delle eccessioni pesantissime rimane la favorita ma anche di questa abbiamo già parlato però il Milan è la squadra che più di tutte guarda al futuro cerca di osservare con un occhio di riguardo e perché io continuo a parlarvi di Paredes di Rovella perché semplicemente se una volta quando vincevo la Juventus tra l'altro qui dietro qui qui dietro ho messo tutte le maglie da calcio che possiede la Juve negli anni che ci hanno accompagnato a vincere gli scudetti e roba del genere quindi se una volta potevo ragionare nell'ordine delle idee di cosa farebbe la Juventus in una situazione simile perché le cose funzionavano in campo si vinceva e a livello dirigenziale a livello di calcio mercato si capiva poi si avevano più soldi si spendivano di più questo lo sappiamo già però la Juventus era la squadra da imitare dentro e fuori dal campo lo stadio di proprietà e tutte queste cose calcio mercato oggi è il Milan oggi è palesemente il Milan dopo anni di di confusione di delirio e quindi vi faccio questa domanda oggi il Milan con Rovella e Rosa andrebbe a cederlo in prestito per un anno per prendere Paredes oppure terrebbe Rovella non dimentichiamoci che noi abbiamo sempre fagioli miretti oltre a Rovella quindi comunque non è che la Juventus va a togliersi tutti i ragazzi però ancora allora vi faccio un'altra domanda l'ingresso di Rovella e non di fagioli l'altra sera che cosa mi significa perché qualcuno me l'ha letto come vogliamo mettere in vetrina Rovella per far sì che ma l'interesse del Monza per Rovella c'è concreto e veritiero il Monza non aspetta altro che un segnale della Juventus che doveva essere assolutamente coordinato all'accessione di Rabiot e l'ingresso di Paredes per poi abbracciare Nicolò però altra sera Allegri ha messo dentro Rovella non ha messo dentro Fagioli ha messo dentro Rovella e Miretti due posizioni di campo differenti due compiti differenti però forse anche Allegri stesso si è accorto che lì davanti alla difesa non c'ha un giocatore e c'ha giocato Locatelli la prima parte di partita e poi quando è stato ora di cambiare ci ha giocato Rovella e allora l'idea è Paredes titolare e se non c'è Paredes allora Locatelli e se non c'è Locatelli andiamo in emergenza e quindi adattiamo Miretti o Fagioli che non è il loro ruolo o addirittura Danilo che non è il loro ruolo io oggi cercherei di risparmiare il risparmiabile invece che andare a dare un altro stipendio molto alto magari a Paredes perché l'altro giorno si parlava di accordi intorno ai 5 forse c'è qualcosa di più addirittura c'è chi dice che siano 7 che siano 8 non lo so non conto se esce rabbio ma se rimane rabbio dentro e riesci magari a cedere Arthur ma in prestito e quindi di pagare una gran parte dell'ingaggio io un altro ingaggio così alto non me lo accollo se non con diritto di riscatto prestito con diritto senza obbligo perché se no non ha senso poi rabbio Alexandro per dire scadranno l'anno prossimo quindi quelli te li togli però non vorrei andare a sovraccaricare la campagna questa da Juventus e il monte in gaggio da Juventus che potrebbe poi toglierci energia e ossigeno o a gennaio in caso di necessità o nella prossima stagione quindi sono cose da ragionare concludiamo su Depay che forse in questo momento è il nome più caldo c'è chi dice addirittura che Depay potrebbe arrivare in Italia nelle prossime ore se attende soltanto un cenno di intesa col Barcellona è che la Juventus stia spingendo per avere la disposizione già per la partita con la Sampdoria di lunedì e quindi già in questi ultimi giorni ultimissimi giorni di allenamento un po' come è accaduto con Kostic settimana prossima vediamo cosa succede ma la notizia di oggi è la seguente rabbio Manchester United tutto è saltato tirato troppo la corda e a Manchester questa cosa non è piaciuta grazie a tutti grazie a tutti